Si dovrà attendere l'inizio del prossimo anno, prima che si avvino i lavori del nuovo ponte sul fiume Verdura nel tratto della strada statale 115 tra Ribera e Sciacca. Infatti sarebbe stato individuato dal sindaco di Ribera Carmelo Pace e dall'ingegnere dell'ANAS Salvatore Tonti il periodo dell'appalto. Il bando dei lavori per la realizzazione del nuovo ponte dovrebbe essere pronto per il prossimo mese di dicembre. Dopo il crollo del viadotto avvenuto il 2 febbraio 2013 nella città crispina si cerca di accelerare i tempi. Ricordiamo che i sindaci di Ribera e Sciacca avevano sollecitato l'assessorato regionale al territorio ambiente ad avviare il progetto. Stiamo assistendo a ritardi inaccettabili, avevano dichiarato in una nota. Tra qualche mese si dovrebbe approvare il progetto e poi eseguire gli espropri dei terreni dove per lo più sono spiantati aggrumeti. La nuova struttura dovrebbe costare 11 milioni di euro. Grazie a tutti.